Paura ieri sera a Vallefoglia, più precisamente in via Madonna dell'Arena, dove nelle prime ore serali, intorno alle 19, è scattato un'allarme per un vasto incendio che ha interessato un'abitazione. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto con più di un mezzo, sono riusciti a placare le fiamme in qualche ora. In gente i danni alla struttura e soprattutto al tetto, come racconta anche il proprietario dell'immobile Paolo Girolomoni, il quale si trovava all'interno dell'abitazione dalla quale è fortunatamente evacuato insieme alla moglie senza conseguenze fisiche. La situazione è tragica in realtà, una casa che abbiamo fatto con tutto il lavoro di una vita praticamente. Niente, in rischio ci siamo accorti verso le sette che uscivano le fiamme da sotto alla grondaia perché c'è un tetto ventilato in legno e probabilmente i pompieri hanno detto che si è innescato l'incendio da una canna fumaria. Quanto ci si accorge che il fuoco è sotto vuol dire che già il tetto è completamente bruciato. Quindi abbiamo chiamato i pompieri, però hanno fatto quello che hanno potuto. L'hanno spettato nel giro di un paio d'ore ed è stato impegnativo. Il problema grosso adesso è l'acqua e i danni che ha fatto perché trasudono tutti i solai, tutto il catrame, l'acqua catramata perché poi il catrame di copertura scende tutto, ha sporcato tutto, pavimenti distrutti, immobili distrutti. Adesso non ci siamo. No 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 Grazie.